Buongiorno fratelli, oggi sono qua a fare uno video diverso di solito perché voglio rispondere a una domanda che vuoi sempre fare qua sullo YouTube, sullo commenti, sullo Instagram sempre mi fare questa domanda Fratello, dove sei finito? Sello TikTok Fratelli, TikTok mi l'hanno tolto, uno milione di follower non c'è più, basta mi l'hai tolto Non sai perché? Loro mi ha scritto perché io ho superato linea e guidare, superato linea, guidare, ma cosa hai fatto? Io non ho guidare, non ho superato nessuna linea Cosa fai io diverso di quelli quattro mucchi con tetti fuori i grangi così? Che loro fai saltare così? E fai vedere sto culo loro poi, io non poi Cosa fai io diverso di loro? Ma voi, visto fratelli TikTok? Visto come TikTok? Pieno di doni inugi Io quando guardare così mi diventare uno sasso Uno sasso diventare, ma loro poi, io non poi Loro poi, io non poi Questo fratelli è successo, non ce l'hai più TikTok? Quello di uno milione più strello, basta Basta, mi l'hai tolto Sono nervoso fratelli, non so Io ho provato a scrivergli di più tutto Nessuno riesce a dare una mano Però ho visto che è successo a tanti persone Questa cosa che ha perso il profilo TikTok Ma loro ho riuscito a riprendere? Io adesso sono qua per chiedere Se vuoi conoscere qualcuno che puoi dare una mano A prendere il mio vecchio TikTok? Qui sotto, qui sotto, sulle descrizioni Vi lascio il nuovo link Di nuovo TikTok Che fatto Vedere se vai di nuovo a salire Difficili perché sicuro mi bloccare di nuovo Però se volete seguire Vi lasciare qua TikTok e anche quello Instagram Per quelli che mi vogliono seguire Chi non vuole Faffangulo Faffangulo